Trauma box qui In effetti non ho finito con l'impressione a caldo Dopo il ritorno di Davy Day Perché mi sto facendo una domanda Ma a che cazzo serviva questo ritorno? A che serve fare un ritorno Dove chiami tutti i tuoi fan allo stadio Dove fai la diretta streaming Metti K.O. l'avversario dopo 10 secondi Cioè torni dopo 3 anni e mezzo Non vuoi nemmeno vedere a che livello sei Rispetto agli altri V-weight Se riesci a durare qualche round Qual è la reale forza No Hai scelto l'avversario più scarso che poteva esistere Gli hai detto non ti nemmeno allenare Che tanto ti pago lo stesso 10 secondi Bam Cioè queste cose non vanno bene Queste cose fanno male alla box Rendetevi conto Su Davy Day è veramente un pagliaccio Adesso che ci penso E adesso non vedo l'ora che Davy Day torni di nuovo sul ring Così io posso vederlo Messo K.O. seriamente Uno di quei K.O. veramente brutali Che si sente che ci sono degli ematomi Dentro il cranio Così la smette di fare il pagliaccio Fanculo Da Trauma Box è tutto Iscrivetevi